Musica Buongiorno, buongiorno, buongiorno Quanto tempo? Come potete vedere sono nella casa ancora in ristrutturazione Però noi, oggi è il 17 giugno, noi entro fine giugno veniamo qua anche perché io ho già iniziato a portare la roba e vi faccio vedere Guardate, scatoloni, scatoloni Allora, sembra che manchi ancora tantissimo perché come vedete è tutto incelofanato, tutto coperto per proteggere tutto Però manca poco, non manca tantissimo E anzi, anzi, per chi ha seguito tutta la ristrutturazione Siamo in ballo veramente da gennaio Quindi veramente non vedo l'ora di finire questo periodo Like di supporto per Vittoria e famiglia tutta perché siamo in un periodo in cui trabagliamo Chi ha fatto trasrochi, ristrutturazione e cose del genere sa di cosa sto parlando Però non manca tanto, quindi super like di supporto, mi raccomando Non perdetevelo, mi raccomando E per chi fosse arrivato qui per la primissima volta, ciao, io sono Vittoria E sto impazzendo dietro a una ristrutturazione che va avanti più o meno da gennaio Quindi iscriviti e supportami E adesso qui è appena andato via il falegname perché stava mettendo la porta del nostro bagno E che è una porta scorrevole Vi faccio vedere gli aggiornamenti Con una bella panoramica nell'ufficio Vedete questa è la porta scorrevole Non so neanche se posso toccarla Beh, facciamo così, onde evitare casini Poi qui sapete che ci sarà una cabina armadio di ale E qua ci sarà una enorme vetrata che non ho ancora trovato Chi me la possa fare Ho fatto diversi preventivi, diversi giri Ma non ho ancora trovato una persona che possa farmela Perché io non la voglio né bianca né nera Perché nera è troppo, secondo me La voglio con un colore dorato antico In ferro deve essere, tutta vetrata E purtroppo devo ancora mettermi a cercare bene Qui intanto abbiamo gli scatoloni che vi stavo facendo vedere Che ho iniziato a portare io e Ale la mattina prima di portare i bambini a scuola E questo stand gigante che l'abbiamo portato stamattina E l'abbiamo incelofanato Qua ci sono tutti i nostri cappotti Il 90% di tutti i nostri cappotti li ho coperti in questa maniera Adesso devo capire come coprirli anche da questa parte In modo che non si sportino Tanto questa stanza qua non manca niente in verità Perché vanno solamente rifatte le prese E basta E basta Poi per tutto il resto è a posto Ma mancano solamente le prese E poi hanno iniziato Oggi hanno consegnato l'ufficio Quindi vi faccio vedere che stanno già montando l'ufficio E settimana prossima portano l'armadio dei bambini E spero spero l'armadio del corridoio Che è 12 metri E quindi è stata molto molto lunga la progettazione E speriamo bene Perché è un armadio che non tutti erano in grado di fare È molto difficile Perché sono 12 metri E aveva bisogno di alcuni sistemi particolari Per le ante Perché sono 12 ante poi No 12 Sì 12 ante di un metro La ragazza un metro Altissime E quindi avevano bisogno di un sistema particolare Capite perché sto impazzendo E invece qua Abbiamo l'ufficio che stanno montando L'hanno consegnato oggi E oggi hanno iniziato a montarlo Questa è la parte mia Qua ci saranno tutti i cassetti Che sono di là Oh mio dio Oh mio dio Se faccio così Sembra veramente ancora un cantiere Non riesco a credere che noi tra 12 giorni vivremo qui Mi fa fatica E qua invece c'è l'altra parte Che è tutta la parte più aziendale di archivio e tutto E poi qua ci sarà lo spazio dove andrò a registrare Però Vabbè Comunque Poi stamattina sono venuti anche a montare Il silestone Qua c'è il mio cellulare E qua stanno montando il silestone E lo devono ancora finire perché devono passare domani Una breve antetriva della cucina Qua ci sono il frigo e il freezer E alla fine abbiamo preso il side by side E poi invece lì Adesso non riesco perché è tutto incasinato Ieri o l'altro ieri hanno montato un armadio per lo sgabuzzino fuori Molto carino Quindi abbiamo messo un po' l'acceleratore Perché comunque noi tra 12 giorni dobbiamo venire qui E convivremo con i lavori in casa Per un po' di mesi Perché non possiamo più posticipare E anzi fatevi sapere se qualcuno Sono sicura che qualcuno perché me l'aveva già scritto in passato Che aveva convissuto proprio con la ristrutturazione in casa E io dicevo Ah cavolo che difficile Per fortuna che noi invece viviamo da un'altra parte Quindi non dobbiamo fare così Eh niente Anche noi vivremo con la ristrutturazione Perché qua manca tutta la terrazza che stanno facendo Però manca in verità La terrazza mancano qua di grande Mancano tutte le rifiniture E mancano la finestra Manca un sacco di roba qua Qui abbiamo i cassetti dell'ufficio della mia parte Qua secondo voi cosa ci andrà dentro Cosa ci andrà Cosa ci andrà Sono tantissimi cassetti E tra l'altro Qua dove vedete tutto sto casino Oggi volevano consegnare Il tavolo da pranzo Per fortuna siamo riusciti a posticiparlo La settimana prossima Perché sennò era un casino E niente raghi Questa è casa nostra Ridi ridi vittoria Ma tu vivrai qui No raghi Sarà Cioè Sarà un casino Vivere così Sarà un casino Siete pronti? Siete pronti? Viviamo tutti insieme Appassionatamente In una casa In piena ristrutturazione No in verità Non tutta Però Tutta questa parte Zona Pranzo E zona Salone Terrazza Manca un po' di roba Manca un po' di roba Però oggi comunque Abbiamo iniziato ad arredarla E poi andremo oggi A prendere la lavatrice L'asciugatrice Finalmente E Per dare un po' più Di concretezza Almeno le cose essenziali Quando dovremo vivere qui Poi per il resto Ci arrangeremo Abbiamo appena abbandonato I bambini in area giochi Tutte e due Libertà Tutte e due Cucciolina Vabbè La nostra area gio La nostra La nostra Mia 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 Bravi No è quella dove Che conosciamo Tipo da Da quando viviamo qui Quindi conosciamo Proprio tutte le persone E adesso andiamo Prima a fare Una pausa Caffè Cappuccino Senza lattosio Perché penso di essere Intollerante E poi La dottoressa Joe Ha fatto la diagnosi Dai No ho fatto l'analisi Del sangue E ho fatto il brief test E Quindi settimana prossima Avrò Avrò i risultati Quindi pausa caffè Poi lavatrice Aspiratrice 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 Una volta che possiamo Prenderci un cappuccino In tanta pace Lui sta lì Attaccato al telefono Questa mascherina Attaccata all'orecchio Che ti giuro Ti staccherai l'orecchio Adesso appoggia sul tavolo Sai cosa stavo guardando? Un sito per noleggiare i caravan Dove che figata E allora adesso non lo guardo più Basta Sono stato criticato Ma per le vacanze Sapete che il mio sogno È andare in vacanza in caravan Come una zingarella In camper In camper Perché il caravan è quello che attacchisce No col camper Col camper Io invece ho trovato Un sito canario Stavo dicendo che ho trovato Un sito canario Io avrò tutto il rossetto Tipo Joker Amore guarda la rossetta È Joker? No La tinta di Kat Von D Brava Kat Perché ormai manco c'è Kat Non c'è più Un sito canario Che rifà i furgoni Furgoni proprio piccolini però Tipo Tipo caravan Tipo camper Però è piccolino L'ho visto Cioè è tipo da coppietta Ma noi non abbiamo un furgone No ma te lo affittano Te lo affittano Ti affittano Ti affittano Ti affittano il furgone Comunque vabbè A parte questo Vi lascio quale foto del furgone Così Magari se non mi fossi Spiegata In italiano C'è la foto Non ho bevuto Non è ubriato No Ho preso il cappuccino All'avena Per la prima volta Non ho mai preso Il cappuccino All'avena Assaggiamo Stagliamo in diretta Allora abbiamo deciso Che prenderemo Una Miele Che penso si dica così Io la chiamerò Miele Fino alla fine Miele Aveva tipo Uno sbrego Proprio qua Uno sbrego Ed era Sì Ma sì Dai vi regaliamo L'estensione di garanzia Tienitela E quindi adesso Vediamo un po' Magari ci facciamo anche Consigliare Magari c'è quella Che abbiamo visto Questa non è quella Che abbiamo visto ieri Questa qua è la V No Questa è 860 Quella di era 960 Era Vci Fatto Tra una settimana Ci consegnano La nostra lavatrice Questa qua Abbiamo scelto E tra l'altro Ha un motore Con due bombe Questo Non chiedetemi di più No Prima ce l'ha spiegato Quindi poi ho capito Ma non saprei rispiegarlo E poi invece Questa è la E la stecca d'ora Questa qua è la stecca d'ora Sì Sì Questa qua Però con una porta diversa La porta Sì la porta uguale all'altra Perché sennò sembravano Due cose diverse E poi in mezzo Ho preso una figata Che è un cassetto Seva vieni qua Che ti metto le scarpe Che bello Chi è che l'ha fatto questo? Io E questo? Siamo E poi il pasticcino Mamma Dimmi Possiamo vedere Le macchine? Siediti Siediti Mamma Voglio vedere la macchina No no Guarda che c'hai le scarpe Tutte slacciate Vieni qua Ricky vieni qua Guarda che mi ha scappato Wow Che c'è un sacco Mi ha scappato il bambino Con le scarpe Guardate cosa faccio No Che questo mi si agita Questo malnato Io mi guardo il tuo fappone Via Cattiva Via Prima diceva Aia mamma Ti fa guidare La tua papà No 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 Non sei più divertente L'altro ha preso il cammino Adia Mi ha spettato il capezzo Ma sei fuori di testa Adesso te lo do a testa Vai Guarda che birbante È un birbante Niente Noi andiamo a casa Sono scappati Niente Noi adesso andiamo a casa Andiamo a cionare Che è tardissimo E domani i bimbi Vanno a scuola E al nido Però abbiamo fatto un po' di cosina Almeno per la casa Ci siamo portati un pochino avanti E domani altro giro Quindi niente Io vi do un super bacio E speriamo di avervi tenuto compagnia Ci vediamo Good night And good luck Ciao